Lucy, sono a casa! Ciao, Ricky! Ciao, tesoro! Lucy, non mi hai detto che avevamo compagnia? Non mi paghi abbastanza! Stando a quello che dice la tua piccola amica robot, stai cercando di alleviare il tuo sconforto abbuffandoti di pizza, comprando su internet... E guardando film con Dolph Lundgren. Tu cuoco, Lucy. Che ne è della mia privacy? Non è nelle mie impostazioni. Tesoro, lo so che stai soffrendo senza Catherine, ma non credi che sia un po' troppo presto per cominciare a bere? Queste sono per Ryan ed Esposito. Oggi escono i risultati del loro esame da sergente, quindi pensavo di passare al distretto e fare una bella sorpresa. E se magari lì ci fosse anche Beckett... Un motivo in più per festeggiare.